Si parla spesso di matrimonio tra sport, appunto, e spettacolo. Loredana Bertè e Bjorn Borg, il campione, il grande campione di tennis, realizzeranno questo connubio sposandosi il mese prossimo a Milano. Lui è di Stoccolma, lei è di Bagnara Calabra, lui ha 32 anni. Lei ne ha 38. Lui è multimiliardario, lei no. Come avrà fatto loredana Bertè a sedura Bjorn Borg? Il più grande campione di tennis degli ultimi 20 anni e la cantante italiana più discussa di sempre si uniranno in matrimonio il prossimo 26 febbraio, domenica terza di quaresima. Lui dice, è la prima vera donna che abbia mai conosciuto. Lei dice, sarà il vero matrimonio della mia vita. Qualche figlio c'è già, Robin, quello di Borg, mentre Loredana è famosa per il suo blef di Sanremo sulla panciona. La cerimonia sarà tutta tradizionale, ha detto la Bertè, e ci sarà anche l'avemaria di Schubert. Insomma, ecco una bella notizia per salutare degnamente la Befana. TNC News termina qui, prossimo appuntamento con le notizie alle 22.25 circa, con Telemonte Carlo in forma. Tra qualche istante, per Cinema Monte Carlo, il film Buddy System con Richard Dreyfus. Buona serata e arrivederci a domani. Grazie a tutti.